Mediopadana Service è nata per tutti quei servizi correlati alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia, quella famosa stazione di Reggio Emilia, fatta da quell'architetto, quell'archistar di nome Santiago Calatrava, una delle tante opere che sono in giro per il mondo, ma penso una delle primarie opere che sono in giro per il mondo. Mediopadana Service è nata per tutti questi servizi correlati, che possono essere il parking dislocato, con la navetta, tutte le navette che possono arrivare per i tour, tutti questi servizi che sono servizi molto semplici, dati al pubblico. Per Expo 2015 Mediopadana ha concorso a suo tempo per diventare un reseller, quindi un venditore autorizzato con la possibilità di creare dei distributori in tutto il mondo, perché non c'è esclusiva per Expo, non c'è esclusiva di territorio e quindi Mediopadana Service si è prorogata perciò, è diventato un reseller, oggi è sulla piattaforma un distributore di ticket Expo, mentre sta predisponendo degli altri servizi sulla piattaforma, sempre inerenti al discorso Expo, ma anche per altre cose, in cui sono tutti quelli che sono i trasporti aerei, che sono i trasporti treno, su banda ferrata, tutte queste cose in cui Mediopadana si è prodigata per creare dei pacchetti con dei prezzi specifici, sempre in concomitanza di questo evento e di altri eventi, oltre a che proporsi per i principali distributori della ristorazione dentro di Expo, che sono Cheer Food e Aitaly, identità golose, per poter usufruire dei servizi direttamente in piattaforma, per non poter, per non fare tutte quelle code, quelle attese che sono di solito fatte in tutti quei ristoranti di questi eventi molto particolari. Per questo un fruttore normale potrà dalla piattaforma staccare il proprio voucher con la pronunzione dell'ora e tutto quello che crede, già con dei pacchetti predisposti dalle ristoratori fornitori. Oltre a questo il Ticket Expo darà, quello staccato da Mediopadana Service, darà la possibilità di altre cose, darà la possibilità di entrare alla Trinale di Milano gratuitamente, tramite prenotazione sempre sul sito, sempre sulla piattaforma, e darà la possibilità di avere degli sconti particolari in quanto concerne la stagione 2015 Arena di Verona, che quest'anno si vede con degli spettacoli molto importanti e penso qualcuno anche di primaria importanza. Tutto ciò, Mediopadana Service ha fatto, per quanto concerne il territorio italiano che usufruisce da alta velocità, ha predisposto con i gestori delle convenzioni particolari in cui potrà essere che parte un vagone già riservato dalla stazione Triburtina o di Firenze o di Bologna o di Reggio Emilia, Mediopadana direttamente, carrozze già predestinate con un numero predestinato, che il carrello metterà a disposizione dei fruitori con un prezzo molto interessante, con una tempistica di viaggio molto interessante, perché Mediopadana, Reggio Emilia, Expo direttamente, Rò, sono 68 minuti, 68 minuti con un prezzo effettivamente molto interessante, che vedrete sulla piattaforma. Tutto ciò è fruibile a tutti i clienti normali, oltre che a tutte quelle agenzie di viaggio o a tutti quegli operatori che si rendessero disponibili a collaborare con Mediopadana Service. Tutto ciò, Mediopadana Service farà per queste operazioni dei gruppi specifici, è già stato stabilito un nome specifico dedito a Expo, che è Expo Food Italy, tutti questi gruppi che verranno fatti da diverse stazioni saranno identificati solo a differenza del numero, perché quello che è Expo Food Italy rimarrà per tutti. Questo è un discorso molto importante, ci sono dei prezzi molto importanti, noi abbiamo collaborato anche, perché sulla piattaforma ci sarà Trenord, Trenord è quella famosa compagnia di treni che serve tutta la Lombardia, è la più grossa compagnia d'Europa, perché muove 2442 treni al giorno, è quella che muove più persone in tutta Europa, quindi è una società molto importante, si è patuito con la società, un discorso molto interessante, il ticket per tutta la Lombardia, da qualsiasi paese della Lombardia dove c'è una stazione, che indubbiamente è solo tra il nord, ci sarà un biglietto specifico andate e ritorno di 13 Euro, quindi da Luino sul Lago Maggiore a quello che potrà essere Cremona, Mantua, oppure altri paesi di Pavia, il costo del ticket saranno 13 Euro andate e ritorno. Questa è un'opportunità molto interessante per tutti i cittadini lombardi, perché finalmente è un prezzo molto interessante e con dei tempi molto rapidi. Tutto ciò, ci saranno degli altri eventi che sono anno 2015, come nel Piemonte, che avremo la visita del Santo Padre e quindi saremo anche lì con delle operazioni particolari particolari sulla piattaforma, sia di informazione che di possibilità al cliente di poter usufruire di ticket oppure di pronostazioni specifiche. Io vi ringrazio e spero di dare a tutti il buon lavoro.